Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, aspettate che ci mettiamo un pochino meglio. Oggi 17 maggio, domenica 17 maggio. Vediamo quali sono i temi importanti oggi dei giornali. Insomma sì, stamattina hanno iniziato un po' tardi, finalmente mi sono letto un bel libro, l'ho recensito sul giornale, la storia della Rosa Spina riguardo alla Thatcher. Ma questo riguarda poco voi che volete sapere che cosa è successo sui giornali. Quello che è successo sui giornali è che il Presidente del Consiglio ieri ha fatto una grandissima conferenza stampa. Vi vorrei far notare una cosa della conferenza stampa del Presidente del Consiglio che, diciamo, da apprendista, il sottoscritto stregone, il sottoscritto televisivo, il sottoscritto, da apprendista stregone ho notato ieri. C'era una scenografia che sembrava quella di Re Sole. A me piacciono queste scenografie importanti, non sono lì a sfottere il Presidente del Consiglio per una scenografia importante, perché a paese importante e a storia importante come quella italiana sono ben contento che si dia dignità di una grande scenografia. Ma la cosa impressionante, andatevela a vedere su internet, ieri è successa una cosa impressionante, a parte la solita questione, cioè che noi giornalisti parliamo di noi giornalisti, cioè ci rammarichiamo della situazione di disagio dell'Agenzia Anza e di altri giornali, cosa verosimile, soprattutto straordinaria, e quindi veramente io sono preoccupato quando un giornalista, uno che fa il mio collega perde il lavoro, sta in sciopero, però in questo panorama in cui tutti sono nella M, l'idea è che tu vai da Presidente del Consiglio e parli subito della tua categoria, dai il senso, secondo me, un po' della nostra... No, vabbè, fate quello che volete. Però il punto fondamentale non era questo, non sono le domande ficcanti dei giornalisti, anch'io non sarei in grado di fare una domanda ficcante ovviamente a Presidente del Consiglio in quella scenografia grandiosa, ma la cosa bellissima è che non ho mai visto una conferenza stampa nel mondo, neanche quella di Cernienco, non l'ho mai vista con due telecamere, anzi tre telecamere, sentite un po' bene le telecamere come sono, una telecamera che inquadra il Presidente del Consiglio, vabbè, e quella ci sta tutta, ci mancherebbe altro, una seconda telecamera che inquadra il giornalista, e beh, ci starebbe il giornalista che fa la domanda, sono ben contento di vedere i giornalisti che fanno la domanda e con quale faccia fanno la domanda a Presidente del Consiglio. C'era una domanda per Casalino, c'era una telecamera per Casalino! Io la trovo, è un dettaglio, ma è stupenda! Telecamera, Presidente del Consiglio, telecamera giornalista, scenografia mondiale pazzesca della grande Roma Eterna, e poi dall'altra parte telecamera che Casalino che diceva parola a Porro, parola a Giovanni, parola a Giannini, parola... La telecamera per il portavoce è dedicata a lui, lo stacco su Casalino! Questo non è il grande fratello, questo è meglio del grande fratello, è l'Italia del grande fratello, si riparte con il rischio calcolato, è il tema che tutti i giornali sintetizzano della conferenza stampa di ieri di Conte, la più sobria, a parte la telecamera dedicata a Casalino, devo dire la più sobria del Presidente del Consiglio, la più forse giustificata e soprattutto quella in cui i giornalisti riuscivano a fare più domande, poi se non le fanno sono cazzi loro, ma insomma il punto fondamentale è che lì era apparecchiata una conferenza stampa, mi sembra molto simile. Un'altra questione di queste conferenze stampa insopportabili, che i giornali non capisco, difendono l'ANSA, giustamente, difendono la Gazzetta del Mezzogiorno, tra l'altro un giornale che era diventato con un direttore liberale a cui io sono molto legato nell'ultima fase della Gazzetta del Mezzogiorno, quindi figuratevi un po' voi se non sono dispiaciuto, però noi subito prima che facciamo le domande al Presidente del Consiglio gli diciamo e rivendichiamo che ci sono dei giornali in sofferenza, come se tutta l'Italia non fosse in sofferenza, ma non gli diciamo al Presidente del Consiglio. Beh, una cosa che io gli voglio dire, e c'è che quando un giornalista fa una domanda al Presidente del Consiglio e gli chiede conto delle mascherine, che sono un flop, che lo capisce anche un bambino piccolo, e ti viene il sangue al cervello pensare che lì del commissario ancora non riuscito a trovare le mascherine nonostante tutte quante le difese, beh, la difesa arriva anche da Conte, e Conte al giornalista che gli chiedeva la cosa più normale del mondo gli dice, beh, insomma, se lei ha una soluzione migliore rispetto a quella del Curi, venga lei a fare il commissario dell'emergenza. E questo non va bene, perché ogni conferenza stampa Conte risponde ai giornalisti che fanno una domanda un pochino più puntuta, come ha fatto il collega giustamente sulle mascherine, quindi ha avuto il coraggio di fare una domanda, gli dice, venga lei se è più bravo, ma vi sembra questa una risposta di un Presidente del Consiglio? Queste risposte le dà Trump, l'odiato Trump che prende a calcio in faccia i giornalisti e tutti noi facciamo gli indignati, quindi cari amici e colleghi giornalisti, la prossima volta, oltre a ricordare lo stato di sofferenza della nostra categoria, forse calcolate anche lo stato di sofferenza del nostro giornalismo, che si fa rispondere dal Presidente del Consiglio a una domanda molto puntuale, come ha fatto il collega ieri in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio non può permettere di rispondere con questa clausa, cioè se lei ha una soluzione migliore, venga lei, a parte il fatto che se il Presidente del Consiglio mi chiamasse a fare il responsabile delle mascherine, io ci andrei, va bene, mi date i 900 mila euro che danno ad Arcuri e io vengo a fare il Presidente del Consiglio, vengo a fare il del commissario, vengo, vengo, vi ringrazio, non faccio come Bertolaso, vengo, datemi un milione di euro, 900 mila euro, lo stipendio di Arcuri, 3 MCC, bonus e tutto quattro, io vengo, vengo, non è che ho un grande problema, quindi se mi dovesse fare la domanda a me e se avessi ancora il microfono, gli direi grazie, vengo, dove si firma, datemi i soldi che date al commissario e io arrivo subito. Comunque, Bekis oggi è sempre il più bravo, perché in questa fase del giornale unico, oggi sul tempo Bekis ci dice, insomma, che il Presidente del Consiglio si è reso la realtà, perché qui l'altra cosa che noi non riusciamo a leggere sul giornale unico del virus, che sono settimane che gli diciamo al Presidente del Consiglio, noi modestamente e più immodestamente, invece, i giornali come Il Tempo e non solo, Remunzi e tanti altri piccoli opinionisti, piccoli non per la loro dimensione, ma perché venivano così considerati dal giornale unico nazionale del virus, gli abbiamo detto da tempo che non si poteva aprire il primo giugno, ora, grazie al cielo, apre il 18 maggio, da tempo gli dicevamo che la minchiata dei 4 metri, 2 metri di distanza del Comitato Tecnico Scientifico era una stronzata e di fatti è arrivato a un metro, quindi noi non possiamo che essere contenti del fatto che il Presidente del Consiglio da lunedì fa esattamente quello che noi aperturisti abbiamo sempre chiesto, quindi applauso, però c'è un piccolo problema ed è un problema che, se permettete, oggi non leggo molto sui giornali e sapete qual è? Se un barista non ha venduto 50 caffè, se un ristoratore non ha venduto 50 piatti, se un parrucchiere non ha fatto 10 tinte, se un estetista non ha fatto 10 estetiste, se il massaggiatore, se il maestro di tennis non ha fatto, se, se, se tutti questi grazie alle indecisioni e ai fenomeni dei sindaci sceriffi, dei presidenti sceriffi e del comitato dei tecnici scientifici nell'ultimo mese non hanno fatturato, non è che lo recuperano ora, non lo recuperano manco per niente ed è il motivo per il quale in Italia oggi, leggo sui giornali, ci sarà il 40% degli esercizi commerciali che non aprirà perché li hanno tenuti fermi più del dovuto e perché gli stanno mettendo norme comunque più dure di quelle che vorrevano. Qua smettetela di chiedermi del sindaco sceriffo di Forte dei Marmi gli ho dato una grandissima visibilità con, sapete che cosa fate? Googleate, googleate due cose rispetto all'unica obiezione che mi ha fatto e cioè un medico spedaliero può prendere lo stipendio da sindaco e chi paga i medici e spedalieri? Il secondo, un sindaco può nominare il suo cugino capo di gabinetto come sua prima cosa. Non voglio entrare, guardate ragazzi, non mi portate su una roba per cui a questo qua gli abbiamo dato tanto di quella visibilità era quello che dicevo un mese fa che chiuderà tutte le attività culturali di Forte dei Marmi. Io sono contento perché ci avremo meno attività culturali del fatto quotidiano perché l'amico Mallegni destra affidò al fatto quotidiano grande quotidiano della destra liberale eh, caro amico Mallegni insieme a questo sindaco e a tutta questa genia di geni la versiliana a quel milio è là. Quindi ragazzi se chiudete come ha detto il sindaco per il prossimo un mese fa chiudiamo tutte le attività culturali ma posso dimenticare mi dispiace perché la cultura è una cosa fondamentale chiudete i campi di tenni chiudete i campi di tenni fate come Solinas il presidente della regione Sarda oggi che cosa ha detto in un'intervista al Sole 24 Ore però ecco su Solinas cercherò di essere un po' più delicato perché non perché di centrodestra su Solinas stiamo attenti perché io vorrei ritornare in Sardegna posso rinunciare a Forte dei Marmi ma vorrei ritornare in Sardegna io vorrei ritornare nel mare più bello del mondo cosa che non si può dire esattamente di altri mari vorrei ritornare nel mare più bello del mondo e quindi con un grandissima pacatezza al presidente della regione di centrodestra della Sardegna che chiede il passaporto sanitario e tutta una serie di il certificato della negatività del virus caro presidente Salinas della Sardegna i tuoi concittadini sardi fanno un ottimo pecorino fanno un ottimo vino hanno una grandissima agricoltura ma siamo pochi ad apprezzarla siamo troppo pochi per farli campare siamo troppo come possiamo dire gli appassionati della Sardegna diciamo di quella Sardegna là non sono così tanti io adoro andrei fuori stagione sono pazzo del mirto sia liquore sia pianta ma caro caro carissimo presidente Salinas se lei continua a chiudere tutto a tenere gli aeroporti chiusi a fare i passaporti sanitari c'è il rischio che quel turismo che già dura poco in Sardegna duri ancora di meno e c'è il rischio che lo Stato italiano prima o poi non avrà più un euro per pagare la Cassa Integrazione ai suoi stagionali c'è il rischio che andranno in posti de merda di altri nazioni che saranno un po' più accogliente rispetto a un paradiso terrestre come è la sua regione c'è un piccolo rischio presidente Salinas lei probabilmente questo rischio lo sta considerando non voglio minimamente mettere in discussione le sue abilità ma non è possibile essere governati da questi sceriffi governatori De Luca Solinas il sindaco di Cagliari un altro di 110 attenzione vi vedo beh ragazzi una persona liberale pensa che la sua responsabilità sia importante ma quella dei politici sia pericolosa quando ci inventano i passaporti sanitari per venire alla nostra regione o no o no va bene no però comunque oggi Solinas leggetevelo sul sole 24 ore caro Solinas invece di fare l'intervista al sole 24 ore cerchiamo di occuparci di come far allungare la stagione in Sardegna che è già morta cerchiamo di occuparci del fatto che i vostri grandissimi favolosi alberghi del nord probabilmente in buona parte non riapriranno che vuol dire lavoro agli straordinari camerieri metri guide subacquei maestri di tennis italiani che vengono da tutto il mondo in Sardegna e straordinari sardi che ti fanno assaggiare le cose più buone della Sardegna che se no se le mangiano da soli dal piccolo agriturismo alla grande albergo o no invece no qua facciamo il passaporto sanitario tanto chi se ne frega una stagione in più una stagione in meno chi è che ci campa il decreto del rilancio il decreto del rilancio è la cosa più bella la scritta oggi Camilla Conti ve la dovete leggere sulla verità perché ha trovato tutte le marchette del decreto del rilancio io ve ne leggo alcune ve ne leggo alcune perché dice 310 milioni per le start up innovative il venture capital tema caro a Casaleggio e Grillini allora a me va bene dare i soldi alle start up figuratevi ma oggi forse il problema non so se sono proprio le start up a cui dobbiamo dare poi il fondo per il trasferimento tecnologico 500 milioni benissimo fondamentale e anche una nuova fondazione hanno fatto per questo un'altra marchetta l'articolo 186 passa da 3 a 5 il consiglio di amministrazione dell'ENIT cioè l'ente per il turismo lì basterebbe una persona non da 3 a 5 chi se ne frega di allargarlo alla provincia di Trento e Balsano siamo morti se pensiamo che cerchiamo di risolvere i problemi con l'allargamento dei consigli di amministrazione e poi ovviamente Giannini oggi sulla stampa dice attenzione al forcone collettivo non lo dice Porro lo dice Giannini sulla stampa fondo di Giannini giornalista economico ed intanto direttore della stampa parla di forcone collettivo che è quello che arriverà dai nostri sindaci dai nostri presidenti e da Conte perché non è che è un caso la situazione economica in cui ci siamo trovati non è che i commercianti hanno voluto chiudere e c'è stato il lockdown e dopo il lockdown ci sono stati gli strascichi del lockdown e dopo gli strascichi del lockdown mentre gli altri aprivano e noi chiudiamo sai cosa ci sono state le regole come sempre che si vanno a sovrapporre c'è una regola una cazzo di circolare dell'INAIL per cui noi i datori di lavoro rischiano il penale se uno dei loro dipendenti dei propri dipendenti si ammala questa non è colpa di Babbo Natale è colpa di questo governo che avrebbe dovuto chiaramente far sì che quella regola venisse cancellata poi leggi Prodi e che alcune volte scrive anche delle cose ragionevoli ve lo dico anche non considerando molto le sue posizioni politiche esattamente quelle che mi affascinano di più però oggi Prodi cosa riesce a scrivere vogliamo la semplificazione e sapete su che cosa si arrabbia oggi sulla prima pagina del messaggero Prodi sull'IRAP perché questo governo ha fatto una cosa buona ve lo dico una cosa buona ha usato 150 parole 150 parole contro le 2500 che sono state usate per esempio sul bonus 110% 150 parole per togliere l'IRAP a tutti a Prodi non gli va bene e dice beh però potremmo togliere soltanto alle imprese che hanno perso fatturato e non a tutte quante è stato fatto il punto vero è che se vogliamo semplificare questo paese dobbiamo fare le cose banali semplici senza troppe regole sì ci sarà qualcuno che non ha perso fatturato e avrà meno IRAP che male c'è avrà meno tasse che male c'è e chi se ne frega ma perché dobbiamo sempre considerare punitive le imposte quell'azienda non ha chiuso e gli alimentari non hanno chiuso e pagheranno meno IRAP chi se ne frega meno soldi allo Stato e più alle imprese è cosa buona e giusta perché le imprese poi assumano danno ricchezza lo Stato lo Stato secondo me distribuisce ai nostri sindaci sceriffi bene è fantastico poi anche la Cerroni oggi Ginevra Cerrina Ferroni che è una costituzionalista sul giornale che fa toc toc che roba è quest'articolo 16 del decreto perché nell'articolo 16 del decreto rilancio cosiddetto si prevede fino al 31 gennaio del 2021 la proroga dello Stato di emergenza e questo non va bene perché la proroga dello Stato di emergenza fa sì che dia a Conte un bazooka quindi avremo la telecamera che predi Conte col bazooka l'altra telecamera che vede Casalino tutto vestito con la tuta mimetica pronti all'emergenza così da poter fare quello che cavolo vogliono con un DPCM con un atto amministrativo che nessun Parlamento andrà mai a votare poi prestano 6,3 miliardi di euro la Fiat ne abbiamo parlato oggi c'è la controffensiva dei giornali cioè quelli che dicono non solo li prestano la Fiat ma anche a tutti i fornitori della Fiat non sono appassionato di questa cosa perché per quanto mi riguarda chi ancora ha lavoro in Italia e paga le tasse in Italia e qualche tassa la paga ancora la Fiat in Italia però potrebbe far di più obiettivamente avendo spostato tutto il resto insomma io non sono uno dei talebani anti Fiat voglio dire su questa cosa però sui giornali ce ne sono molti uno di questi è Orlando io la trovo fantastica intervista al Fatto Cotidiano il ministro il ministro della giustizia cosa dice? grandi gruppi e media contro il governo per prendersi i soldi e scusami Orlando ma chi sarebbero? quelli che hanno difeso Conte come il Corriere della Sera? quelli che hanno difeso Conte come Repubblica fino a quando non è passato dalla famiglia il Cannes? quelli come il giornale unico del virus che ci ha messo una paura tale per cui i sindaci di tutta Italia stanno facendo le normative più dure del mondo perché si cagano sotto che possa ritornare questo contagio mortale mentre mi sembra che il numero dei morti sia meno minore di quello dei morti purtroppo che avvengono per altre malattie ma nessuno ne parla oggi in Italia perché dobbiamo farcela tutti sotto nel frattempo Travaglio sul medesimo giornale si occupa come sempre il decimo pezzo contro Bertolaso e in questo caso perché? che cosa avrebbe fatto Bertolaso? ha rilasciato l'intervista al foglio quindi l'intervista al foglio che vi ho citato ieri non può rilasciarla quindi contro Bertolaso ultima cosa che veramente ve la devo raccontare beh insomma è la straordinaria storia del CSM ma la cosa la prende ovviamente il fatto non capisce nulla su questa vicenda non capisce perché capisce troppo bene perché sa che quello che sta succedendo è imbarazzante per il loro cocchetto che è il ministro Bonafede se non c'è Bonafede non c'è Conte se non c'è Conte non c'è questo governo se non c'è questo governo il fatto è dispiaciuto molto legittimo e molto semplice chi la prende bene? è Belpietro vi leggo soltanto le prime cinque frasi di Belpietro perché non pensiate che sia una cosa complicata è semplicissima cosa è successo? che mesi fa ha mollato il capo degli ispettori delle carceri perché pizzicato in una storia di corruzione nominato da Bonafede poi non so se nominato da Bonafede in realtà ma comunque del ministero di Bonafede poi ha mollato nominato questo sì da Bonafede il capo delle carceri questo Basentini che Bonafede ha preceferito al giudice antimafia secondo loro un eroe di Matteo poi ha mollato perché ha gestito male la questione dei boss 500 scarcerati poi ha mollato il capo di Gabinetto non solo quindi il capo degli ispettori non solo il capo del DAP ma anche il capo di Gabinetto l'uomo scelto da Bonafede per farsi tutto sostanzialmente il vero ministro di il vero ministro di ha mollato si è dimesso perché era beccato in un'intercettazione con Palamara per cui chiunque parla con Palamara che era il centro dello smistamento diciamo degli interessi del CSM oggi deve essere fatto fuori da questi manettari quindi è fatto fuori anche e dice Belpietro siccome con Palamara ci parlava anche il nuovo capo del DAP quello che ha sostituito Basentini probabilmente verrà fatto fuori anche lui allora signori dice Belpietro ma scusatemi ma questo ministro di cui si dimettono tutti quanti o per corruzione o perché era un amico di Palamara che per loro è impresentabile che addirittura ha fatto tutta sta polemica con Di Matteo che era il loro eroe sta ancora lì fisso come se nulla fosse e gli dicono ancora bravo 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 ma dai insomma ridicolo direi che per il momento è tutto oggi non ho passato del der commissare lo farò a Quarta Repubblica domani sera e ci saranno molte nuove novità sulle mascherine anzi c'è una amica che mi ha mandato aspettate che ve lo faccio vedere aspettate 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 questa ve la devo far vedere ve la devo far vedere perché una mia amica guardate che mi ha mandato non so se si vede adesso ve l'apro la masterina toc toc fantastica ciao buona domenica buona domenica grazie grazie